Cioè, ma com'è possibile? Io più mangio, più ho fame, no? Quello è lo stomaco, che si allarga e si stringe. A me si allarga, sono ragazzi, com'è possibile? Ho trovato all'ultimo i biglietti per quella serata di Capodanno! Eeeeeeeh! Eeeeeeeh! Ti giuro tanto a prestante, abbiamo fatto una cosa del genere! Che facciamo? Prenetto, 100 euro. Cioè, non fa niente, passi ciline! Il resto, Lista Gold. Lista Gold? Privé in console, free bar! Mamma mia! I bar! I bar! I bar! I bar! I bar! Si! Io mi devo bere tutto! Bravo! Nell'acqua del Pineda! Io mi devo bere tutto! Io mi devo rovinare! Tu già sei rovinato! Queste sono le serate di Capodanno! E queste! Oh, le serate di Capodanno che facciamo ogni anno, sempre! Davanti alla televisione! Cioè, col pigiama di Pail! Eeeeeh! Con la cioccolata calda! Si fa sempre quella pellicola sopra che io me la mangio! E la si fa un'altra volta! E io me la mangio un'altra volta! L'albero che fa! La luce in piano! E poi si spegne tutto quanto! Piano! Cioè, meglio la serata in discoteca! No! È normale! È normale! E lo dobbiamo fare! Basta! Vabbè? Io pure ho fatto aggiustare la macchina! Quando hai fatto aggiustare la macchina? La settimana scorsa! Hai fatto tutto cosa? Proviare la revisione? Fatta! L'olio? Cambiato! L'acqua è un radiatore. Limpida. Allora niente ci potrà fermare. Si sbuca una ruota. C'è una ruota di scorta. Un infarto. Non c'è un infarto. Nel senso... Ci dobbiamo divertire per forza. Allora... Andiamo! 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 Dove stanno le capi? La città. Ma abbiamo perso i 100 euro? 115 capri, vendita online Ma che c'è na' food?